ciao a tutti ragazzi sono ese e benvenuti qui su una nuova puntata di amnesia siamo sulla custom stories felix nightmare come vedete una beta e allora vediamo un po ciao felix se niente si è svegliato ero spaventato vabbè purtroppo ho dovuto bloccare la serie su una story perché c'è un bug che non mi fa andare avanti e quindi non posso continuarla ok vediamo un po siamo svegliati solo un sogno e quindi siamo nel sogno di questo conto già dall'inizio non mi piace ma non perché è brutto perché fa cagare sotto non 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 che voi ok non ci posso andare e quindi ok va bene allora prendiamo questo libri vecchi devo dire che hai una bellissima voce il dacciarino è un ingegnere rotoli di carta inutili un libro vediamo che libro è libro senza moda va bene facciamo una sedia non c'è qualcosa di utile qua sembra di no va bene facciamo una raccolta condensata non so cosa possa servire una statuetta di pdp non c'è allora tu tu te ne vai gra il treppo di qua è chiuso 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 qui è dove c'era il morto allora vediamo un po' che cos'è una nota sì bibbia ok ok sono tranquilli no non c'è da spaventare finito quindi mi dovrei preoccupare se le porte si aprono da solo attendete se lo sappiamo non c'è niente una chiave sembra che è sparito il calamari cos'era quel rumore aspetta aspetta il libro è questo? traggio guarda là interessante toglio tu ti nascondi eh sciamarino ok entriamo nei cassetti tu non serve a niente possiamo andare tu non mi piace vibri vibri sedia funziona uno scudo lo userò per ripararmi dai monster acciarini se ci sono tutti questi acciarini vuol dire che c'è poco olio sui oh lante no perfett vai 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 ah voglio carino yap BNB Do not press H Perchè non devo comere H? Chiusa Chiusa Quindi Dove dovrei andare? Ah vero abbiamo una chiave in noi Noi veniamo Questo non si apre Ok Poi siamo andati in questo Abbiamo due chiave Aspettiamo andiamo per D Ok Quindi dobbiamo andare di qua Ok Perchè non Ok Ok Mamma mia E' enorme questo posto Semplice rocchetta Dimension Ci andiamo dopo Prima di Siamo tornati indietro Com'è possibile? Quindi di la Si torna Fa in culo Copriti tu Uomo deludato Uomo deludato Una testa Aspetta Se ci penso io Ah Così Non c'è niente Non c'è niente C'è niente Sempre ste sedi in mezzo Se ci penso io E non c'è niente E non c'è niente Il pò E non c'è niente un coso un avogato perché ho sembrato ok ok quindi suppongo dobbiamo salire le scale aspetta però chiusa chiusa nell'altra lata e chiusa questo posto è strettamente intile oh e entreramo ok forse ho capito cosa dobbiamo fare ma per questa puntata è tutto spero che il video vi sia piaciuto lasciate un commento, un mi piace e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti